Il diocesano di Taranto si replica questa sera a Nina, ossia la pazza per amore, una delle opere più celebri di Giovanni Paesiello, titolo di punta nel cartellone del festival, a lui dedicato, Vito Marinelli. Una prima assoluta in tempi moderni, quella rappresentata al Moody di Taranto, con l'opera più celebre forse di Giovanni Paesiello, Nina, ossia la pazza per amore, nell'ambito della quattordicesima edizione del festival dedicato al compositore pugliese, con il recupero dello spartito originale del 1789, andato in scena in quell'anno nella reggia di Caserta, con un atto unico e i recitativi parlati, musicati solo l'anno successivo. L'opera che si replica questa sera è il punto più alto del cartellone messo su, come sempre, dall'Associazione Amici della Musica, nel bicentenario della scomparsa del compositore, con concerti, incontri e conferenze tra palazzi, chiostri e chiese della Taranto vissuta dal musicista, ammirato persino da Mozart. I prossimi appuntamenti musicali sono in programma il 28 settembre e il 12 ottobre, nel Duomo di San Cataldo, con quattro concerti per pianoforte e orchestra e la Missa de Functorum il 3 ottobre. La musica suonerà ancora per l'appuntamento di chiusura il 20 ottobre al Teatro Orfeo, con il recital I Tre Buffi, affidato ai tre baritoni Paolo Bordogna, Domenico Colaianni e Bruno Praticano. I massimi esponenti.